Ancora un altro testo e un brano sul grande campione Diego Armando Maradona è stato prodotto dal tandem Immacolata Coppola e Vincenzo Granito. Ascoltiamo le ragioni che hanno indotto il tandem a comporre questo brano. Salve a tutti, sono la scrittrice di Vincenzo Granito, Coppola Immacolata. Io e Vincenzo Granito abbiamo creato un altro testo per Diego Armando Maradona. Il motivo è stato più che altro mio padre, mio padre che è amante di calcio del Napoli mi ha detto già hai fatto un bel testo con il primo, fanne un altro, ti do una mano. Infatti qualcosina me l'ha descritta lui e io ho fatto come diceva lui, quindi ringrazio anche mio padre per questo. In tutto noi facciamo un appello per trovare un cantante con la casa discografica che apprezzi i nostri testi e che li possa cantare. Grazie e ringrazio a tutte le persone dietro alle quinte che ci sostengono. Edona non resta in fase conclusiva di ascoltare parte del brano. Dimostrò di essere già un campione Cominciando a giocare per il Boca Junior E da lì diventò Un campione argentino E fu ingaggiato dal Barcellona Ma un infortunio lo fermò E con la sua forza e coraggio Entrò a giocare Con il Napoli